Ok, ok, ok. Sì, queste due partite qua, pessime proprio. Ho buttato via la corona. Mannaggia, una decima posizione, ma terribile, ma terribile. Vinga pure tu dove vuoi andare, eh? Ok. Sì, dai. Io scaldare mi sono scaldato. Magari questa è la tua di riscaldamento? O sei già caldo? Ciao, peppozzo! Cosa, scusami, Alex? Sì, mi ha scritto... Sì. Come mai? Cosa c'è qua? Di così allettante. Ah, cazzarola. È qua. Eccolo lì. Uno a terra. Ok, perfetto. Il mio è da solo, eh? Perché non ha... Ah no, li hai fatti fuori tu. Ok. Perfetto. Perfetto. Ma il mio non ha gattonato, eh? Non so se giocava da solo. Ok, perfetto. Grazie. se trovo uno scaldino me lo sparo dopo. Andiamo qua. Ah, beh, pesce scudo. Perfetto. Cosa? L'ho sentito... No, no, oggi lui... Quando c'è Masterchef... Non prende impegni. Ah, 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 ah. È un fan accanito. Eh, ma in realtà no. Penso sia una canzone di Fortnite, sai? Eh, no. Ok. Sì, mi manca solo una cassa che mi sto fa... Ah, ecco, è la nissoppa, su suo palco. Ok. No, non c'è. Dove cazzo è sta cassa? Mi sono incarognito, lo voglio. Non ci credo. Sì, 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 sì. Vediamo se ho qualcosa... Ah, ecco... No. Dove cazzo è? Ah, ma vedete... E tra l'altro tutta roba abbastanza. Ciao, lo prendo io allora, dai. Lo prendo io. Eh, vediamo che mirino c'è questa. Eh, ma le granate fanno abbastanza male, sai? Oil. Sì, esatto. Mi ha fatto scuola mio nipote che è un fenomeno, praticamente. Eh, io in genere faccio assalto pompa e cecchino. Sì, fanno veramente male. È vero. Sì. Sì. Ok, mi senti? Alex? Io ora sì. Eh, ho temuto che mi buttasse fuori da... Da Fortnite. Ho avuto un momento di blackout. Ogni tanto mi ripro. Grande. Grandissimo. Ma sai che ti dico? Che l'hai impulso. Sono pure sei. Beh, comunque anche... Oh, minchia, quel fucile lì, però... Anche in costruzioni sono... Sono belle da usare, eh. L'impulso... L'impulso... Ah, questo è un cecchino? O l'olografico, è una merda. O anche quando c'era Mega City... Mega City. Eh? Sì, ho giocato... La stagione è quella di Mega City. E... Oddio, prima... Eh sì, quella è questa. Quella è questa. Ok, perfetto. Sì, 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 sì. Ma infatti con le costruzioni vince chi ha la connessione migliore. Ma questa cosa... Sì, ma la potrei giocare. Però comunque ci sono connessioni migliori. Cioè che mica ti tengono lo zero proprio. Sì. Sì. Eh, sai cos'è che... Allora, so che col computer... È tutto un altro vantaggio. Perché comunque il puntatore è molto, molto, molto... Diverso dal pad. Solo che va un po' contro alla mia voglia di giocare... Ai videogiochi. Cioè io devo avere in mano il pad. So che è un discorso ottuso, però... È così. Sì, sì, sì. Io amo avere il pad in mano. Poi adesso però in effetti che mi sono appassionato a giocare a Fortnite... Potrei anche provare a giocare così, eh? Col computer. Però non lo so... Sì, 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 ce l'ho, ce l'ho. Però... Eh, però io quando gioco i videogame voglio... Voglio il pad in mano. Non sono ancora pronto per fare... Per giocare con la tastiera. 32. Grandissimo. C'è l'altro dietro di te. 32. 32. Ok, perfetto. La vuoi tu questa? Prendila, prendila. Vai, lo provo. È quello di Bitter Griffin alla fine. Questo qui. Sì, 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 sì. Eh, infatti bisognerebbe modificargli il caricatore. Allora sì. Allora sì che si ragiona. Sì, 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 è vero. Quello è vero. Ma questi hanno... Comunque il medaglione ormai lo schifano tutti, eh. Perché le hanno nerfati di bestia. Eh sì, perché alla fine è troppo lento a caricarti lo scudo. All'inizio... L'inizio stagione aveva senso. Perché comunque ti caricava tutto lo scudo ed era anche abbastanza veloce. Eh sì, 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 è nel... È nel bunker. Oh, gente in volo là. Ah, vanno sull'isola. Ah, anche lì, sì. Allora, io sono... Grandissimo. Io non ho il mirino, non riesco ad arrivare, eh. Ti seguo. Mi piace, mi piace così, aggressivi. Oh, grandissimo. Non so perché mi ha dato l'assist che... Non ho fatto un cazzo. Hai fatto tutto tutto... No! Ok, me la riprendo. Questo lo vuoi, l'arma dorata? Ma sai che io invece mi prendo il cecchinazzo? No, l'ho grafico, non ci credo. Ok. E poi mi piglio... Questo. Questo, sì, sì, sì. Questo. Sì. Vai. Arrivo. Adesso sono anch'io... Sono anch'io armatici. Dio, no, eh. Faccio un medikit che la tempesta mi ha fatto... Arrivò. Dov'è che è? Ripingamelo, per favore. Tutti e due col cecchino? Riprendi. Ma non ci credo, mi ha preso la bacca. Porca puttana, eccolo. Scusami, non te l'ho sentito. Questo, sì, ho fatto, ho fatto, ho fatto. Merda, merda, merda. Guarda quel pirla lì. Ma quanto cazzo... Io ho fatto almeno, almeno... 200 di danno, figa. Ok. Ce l'ho io, il medikit, se non ce l'hai, eh. Ce l'ho, ce l'ho io, te lo do. Vediamo il save che... E' a sinistra, eh? Merda, mi ha fatto! Chi? Chi mi ha preso? No, cazzo, quello lad... Questa è bravissima. Ti lascio il med... Ah, scusa, mica, ho lasciato lì il medikit. Ok, grazie. Grandissimo, sei una belva. Arrivo, eh. Mi spara a me, pure. Eccolo. Grandissimo. Manca uno! E si va su YouTube! Sì, sì, le vittorie... Le vittorie reali, le coronate... Tutto su YouTube! Finchia, un camperone, però, cazzo. Vediamo se... Vediamo se... Dove... Ah, eccolo! Grandissimi! Vittoria reale! Vittoria reale! Grandissimo! Chor... Chor...